Buongiorno a tutti e benvenuti all'analisi ciclica evoluta settimanale su due mercati DAX e Fuzzimib. Prima un piccolo aneddoto divertente. Notato come su TradingView chi mi copia beceramente senza ammetterlo e a distanza di oltre 10 anni da quando ho iniziato a studiare l'analisi ciclica evoluta con Hearst e poi il migliorino non faccio analisi fino a che non riesco a farne una io. È divertente perché sono i fatti a smentire determinate parole oltre che il tempo ovviamente e quello può essere controllato tranquillamente dalle registrazioni delle analisi fatte da tanti anni da me con l'analisi ciclica e poi l'evoluta proprio su TradingView stesso. Ma torniamo noi, ok? Non perdiamoci in bazzecole, hanno interesse al trading. Il secondo TP2 mensile è arrivato già a 35 barre giornaliere su massimo 43, quindi massimo una settimana. Siamo arrivati al quarto T settimanale e teoricamente mi aspetto che la prossima settimana si vada a finire sotto gli 11.957. Ok? Parto dalla fine per poi illustrarvi perché mi aspetto che si arrivi qui. E attenzione, questo è il piano principale, ma se ci dovessero essere delle cose strane, sapete che come al solito noi utilizziamo la ciclica evoluta, uno dei sistemi più rapidi per accorgersi se ci sarà e se c'è un cambio di trend oppure qualche errore nella provisione fatta. Tenete per un presente che comunque in ogni caso, essendo già arrivati appunto a questo tempo e a 15 giorni sul TP1 che massimo ne può contare appunto 21, siamo limitati, abbiamo persino non 8 giorni ma 6 giorni per muoverci e per arrivare teoricamente eventualmente sotto questo minimo 11.957. Ok? Questo perché? Perché, come detto, motiviamolo, dobbiamo andare a chiudere il primo trimestrale. Il primo TP3 che è partito da qua insieme al TP4 semestrale e al TP5 annuale. Questo è quanto? Molto semplice. Ci torna all'inverso? Vediamolo subito. L'inverso è il controllo, ovvero da questo massimo a questo massimo abbiamo fatto 74 barre, quindi un trimestrale, da qui può essere partito il secondo trimestrale tranquillamente perché siamo arrivati a 19 barre e quindi a un trimestrale lateral rialzista lanciato da un TP1 bisettimanale e quindi se questo ha già chiuso sul massimo di venerdì a 12.000, anzi di giovedì a 12.658 a questo punto non ci resta che vedere se ci sarà una prosecuzione di rialzo per l'inverso quindi il ribasso di indice. Con peraltro anche una bella divergenza ribassista qui. Tutto porta a un ribasso teoricamente. Il target è dato. 11.957. Sotto il 11.957. Ok. Peraltro se anche torno a questo grafico delle medie mobili siamo saliti tantissimo rispetto a tutte le altre. E la blu, che è la più veloce di tutti, questa qua, è quella che per ora sembra voler andare in death cross. Tutte le altre sono in golden. Passiamo a Fuzzimib. Fuzzimib stessa identica cosa, ovvero guardate com'è molto più piatto. Qui sparata all'insù per adeguarsi agli altri due mercati allo stando nel P500 e al DAX. Poi di nuovo fortissima lateralità, veramente pazzesca in certi momenti, ma la situazione è la medesima. Siamo arrivati a 36 candele di secondo mensile, quindi massimo ce ne aspettano 7 per la chiusura. Qui siamo già a 7 per il secondo di settimanale, quindi massimo 4 per una chiusura a 11. e si dovrebbe tornare entro la prossima settimana, quindi sotto i 18.878. Anche qui il target è molto semplice con l'evoluta. Anche qui, se andate a vedere, prendiamo il grafico e allarghiamo un pochino di più, se noi ci andiamo a mettere così, a divergenza, e spostiamo questa, siamo nella medesima situazione precedente, ovvero divergenza di continuazione ribassista. Peraltro ha 7t-3, centratura perfetta, e appunto con, o mai poco da potersi spendere in altro modo. Probabilmente può essere che l'inverso prossimo stia già partendo da qui, ed è un secondo t più 1 inverso, che richiede un t-1 rialzista, ovvero ribassista di indice, ovvero 3 giorni, 4 giorni, 5 giorni di ribasso, e ci porterebbero appunto, come detto, al target a 18.878. C'è poco altro da dirsi, questo è quanto, per cui non sto a tediarvi, e vi auguro uno splendido weekend. Arrivederci!